Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. In questa parte della trasmissione riprendiamo il discorso che abbiamo interrotto 15 giorni fa quando sono stato l'ultima volta qui in radio che facciamo la sera e stiamo parlando appunto del crogiolo dello stragone e stiamo andando avanti col testo relativo alle determinazioni. In pratica stiamo praticamente stabilendo cos'è l'uomo e cosa il singolo individuo, la singola persona deve fare durante il suo modo di porsi davanti alla vita per riconoscere se stesso come un dio e come tale costruire le proprie determinazioni e costruire il proprio potere. Il fine della stragoneria, come sapete, è quello di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Bene, prima di iniziare con la lettura delle determinazioni, che probabilmente questa sera termineremo anche, vi ricordo gli appuntamenti che abbiamo stabilito praticamente. In gennaio, il giorno 29 gennaio alle ore 20 e 30, parleremo dell'arte dell'agguato qui in sede Radio Gamma 5 e riprenderemo il dibattito che abbiamo lasciato prima delle feste. Dopodiché il giorno 26 febbraio faremo un altro discorso e parleremo essenzialmente del mondo, nel mondo della società, nel mondo sociale. E in questo mondo sociale noi indicheremo e individueremo tutti quegli elementi che sviluppando i quali attraverso la stragoneria ci permette di vivere al meglio all'interno del mondo sociale. Allora, il 29 gennaio alle ore 20 e 30 ci troviamo qui in sala Radio Gamma 5 per parlare di stregoneria. Parleremo della seconda parte dell'arte dell'agguato e concluderemo l'arte dell'agguato. Il giorno 26 febbraio, sempre qui a Radio Gamma 5, invece, cominceremo l'altra parte dell'arte della stregoneria e inizieremo esattamente il mondo della società. Cioè come chi pratica stregoneria può affrontare le condizioni della società nella quale stiamo vivendo. Scusate perché devo anche mettere a posto l'appuntamento per gennaio, ecco a posto. Per cui questo è in sintesi i nostri incontri. Dopodiché, a marzo, il giorno 19 marzo, ci troviamo al Bosco Sacro di Jesolo per tenere il rito sul equinozio di primavera. E là, vi ricordo che è il rito della nascita ed è il rito che celebra le trasformazioni che noi abbiamo nel corso della nostra esistenza. E infine, il giorno 25 marzo, sarà organizzata la cena del musso. La cena del musso a cui vi parteciperà, chi vuole parteciparci, chiaramente. Il solito appuntamento che abbiamo delle parti di Marostica, ormai un appuntamento che ha superato i dieci anni. Bene, cominciamo allora con il discorso sulle determinazioni. Quindi, anziché i fogli sto usando il computer, abbiate un po' di pazienza se faccio un po' di cappelle. Eravamo rimasti, l'essere feto, quando giunge ad aver accumulato il massimo del potere di essere accumulabile, muore. Muore l'essere feto, nasce il bambino. Accumulando il massimo del potere possibile agendo nel proprio mondo, si genera la qualità. La qualità che si genera dalla quantità di potere di essere accumulata, dall'essere feto, è la nascita del bambino. Allora, la prima condizione che noi dobbiamo affrontare è che cos'è il bambino? Il bambino non è altro che il risultato della morte del feto. E dobbiamo riuscire a comprendere questo aspetto perché ci permette di mettere a fuoco la questione. Se muore il feto, posso celebrare una morte, ma nello stesso tempo nasce il bambino, posso celebrare una nascita. Da dove si inizia quando si decide di scegliere le proprie azioni in base alle proprie predilezioni, alle proprie possibilità, valutando il meglio per se stessi nel mondo in cui si vive? Il mondo in cui viviamo ha già circoscritto le nostre azioni, vedi la struttura giuridica per esempio, ha piegato le nostre predilezioni, vedi la struttura morale corrente, ha circoscritto le nostre possibilità di valutazioni, imponendo quella e solo quella conoscenza e solo quel sapere. Dunque, noi nasciamo già in un mondo che ha circoscritto entro ambiti precisi la nostra possibilità d'azione. Pertanto, ci chiediamo a sto punto, visto che queste sono le condizioni, da dove iniziamo il nostro cammino? Restano le determinazioni, restano le nostre determinazioni. E' vero, il mondo ha circoscritto il mio modo di guardare, ma non subisco più passivamente quando, dove e come guardare, ma uso la determinazione di guardare per quello che in quel momento i miei bisogni mi indicano di guardare. Cioè la scelta psicologica, praticamente, non è più se guardare questo o guardare quello, ma la scelta psicologica è la mia scelta di guardare ciò che io voglio guardare. Cioè praticamente è la mia scelta di usare i sensi nella direzione in cui io i sensi li voglio usare. Se il mondo ha imposto una limitazione al mio guardare, devo attrezzarmi per rimuovere quella limitazione, perché la limitazione non è solo relativa a guardare, ma a tutto me stesso. E qui, nel far questo, noi esprimiamo una divinità assoluta, cioè una divinità che è il fondamento di tutto l'esistente, che la riconosciamo, e questa divinità la riconosciamo, nella misura in cui ci prendiamo nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, cioè la responsabilità di guardare, ma anche la responsabilità di agire, anche la responsabilità di sentire, anche la responsabilità di giudicare, anche il fatto che sono io che faccio le cose. Ecco, in quel momento, e solo in quel momento, esprimo questa divinità universale. E la divinità universale è Eros. Eros, le tensioni della vita, come la rimozione degli ostacoli, dei legamenti, che impediscono all'essere, che impediscono all'essere, cioè all'essere di essere, è la manifestazione di un Dio particolare. Eros, colui che nella teogonia esiodea appare quasi dal nulla, come una forza intrinseca della vita. La vita si svolge e si manifesta come l'acqua che cerca la sua via nel sottosuolo. Si adatta agli anfratti, si fa assorbire dalla terra, sfrutta la gravità, sfrutta la capillarità, si accumula in contenitori, si apre varchi, abbattendo pareti e infine sgorga la luce. Una guerra che l'acqua combatte nel sottosuolo, nel suo tartaro, rimuovendo gli ostacoli. Poi, quando l'acqua sgorga, noi possiamo celebrare la ninfa. Nell'antica legione romana, questo modo di rappresentare la vita era indicato con una divinità, Fons. Ebbene, Fons si manifesta rimuovendo gli ostacoli sul proprio cammino. Non è un rimuovere gli ostacoli come Ares o le furie, anche se le furie spesso si manifestano nelle acque, ma è piuttosto un'azione che, modificando le acque stesse, tende a raggiungere l'intento, sgorgare. Così, se c'è un muro, l'acqua lo aggira, se c'è un avvallamento, l'acqua lo riempie. Quando l'acqua è forte, arriva e travolge tutto, e poi continua il suo corso. Se la via è stretta, usa la capillarità per penetrare, oppure accelera la velocità, eccetera, eccetera. Quest'azione è manifestazione di Eros universale. L'acqua rimuove gli ostacoli che incontra sul proprio cammino. L'essere umano rimuove gli ostacoli che incontra nello sviluppo della sua esistenza. Come l'acqua ha consapevolezza della sua azione, dite che non ha consapevolezza opinabile. La consapevolezza dell'acqua non rientra nella ragione umana. Così l'essere umano deve essere consapevole che sta procedendo nello stesso modo. Solo che la sua azione non avviene nel tartaro del sottosuolo, ma nel tartaro del quotidiano, sia esso l'essere natura o il sistema sociale. Deve rimuovere gli ostacoli che gli impediscono di dilatarsi. Quanto blocca la sua psiche, quanto blocca le sue emozioni, quanto blocca il suo sapere, quanto blocca la sua conoscenza, quanto blocca il piacere della sua esistenza. L'essere umano deve rimuovere gli ostacoli che bloccano le sue potenzialità e spesso sono ostacoli di ordine educazionale. Però l'essere umano può farsi Zeus combattendo la sua battaglia titanica, che lo trasforma da soggetto che ha subito le condizioni del mondo e a quelle che si è adattato passivamente in colui che si prende la responsabilità della propria esistenza nelle proprie mani e sceglie i propri adattamenti fra i fenomeni del mondo in base alle proprie tensioni e alle proprie predilezioni. Per fare questo pratica l'illustrazione delle proprie determinazioni, riconoscendole prima e rendendole efficienti nella propria attività. Dalla pratica delle proprie determinazioni di Zeus sorgono le condizioni nelle quali i suoi figli germinano e permettono agli esseri della natura di germinare. Dunque tutto questo è la manifestazione di Eros universale. Eros universale che si manifesta negli esseri, nei loro intenti, nelle loro passioni, nei loro esperimenti, nei loro modi di affrontare la loro esistenza e che porta questi a trasformarsi giorno dopo giorno. Vi ricordo che il paganesimo, la stregoneria e il mito stesso hanno la peculiarità di rappresentare il mondo non per la forma o per la quantità o per la qualità, ma rappresentano il mondo per le azioni che agiscono nel mondo. Le azioni sono la sostanza, non gli oggetti che fanno le azioni, non gli esseri che fanno le azioni, ma le azioni sono sostanza e la sostanza delle azioni che si manifesta nel mondo sono quelle che determinano gli oggetti. Pertanto ricordatevi che quando pensate al paganesimo, quando pensate alla stregoneria, dovete pensare all'azione, non alla forma. La limitazione vale per l'attività delle mie mani, per le mie emozioni, per la mia sensibilità, per la mia sensualità, per la mia psiche, per le mie sensazioni, per il mio percepire il mondo, per la mia capacità di giudizio, per quello che io esprimo. Ogni volta che il mondo impone una limitazione al mio essere, alla mia rappresentazione e attività nel mondo, la impone a tutto me stesso. Ogni volta che rimuovo un ostacolo che blocca una delle mie determinazioni, le mie mani, i miei occhi, il mio modo di agire, il mio modo di pensare, il mio modo di afferrare le cose nella mia vita, eccetera, eccetera, rimuovo un ostacolo che blocca tutto me stesso. La rimozione degli ostacoli e l'uso delle proprie determinazioni è attività dell'essere umano che si è fatto Dio davanti al mondo, rivendicando il proprio diritto ad esistere. Questa attività, riversata all'interno del sistema sociale, rimuove gli ostacoli nello sviluppo degli individui nei sistemi sociali. Vedi l'attività per cui vennero spenti i roghi. Perché non si è mai potuto appiattire l'essere umano in un solo ruolo sociale, culturale o esistenziale? Perché l'essere umano non è creato d'immagine e somiglianza di un Dio padrone? Non è, cioè, appiattito su una definizione di verità creata ed imposta. L'essere umano è divenuto manifestando quello che è generazione dopo generazione. L'essere umano ha dentro di sé tutte le determinazioni intese come bisogni e tensioni d'esistenza. Negli esseri della natura tutte le determinazioni come tensioni e bisogni dei milioni di generazioni che hanno combattuto la loro battaglia di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che hanno incontrato. L'essere umano ha dentro di sé milioni di anni di adattamento soggettivo alle variabili oggettive per diventare specie sociale. L'essere umano ha dentro di sé tutte le determinazioni come bisogni e tensioni degli infiniti mondi della percezione che lo circondano. Riconoscere le determinazioni come espressione di se stessi e come strumento di modificazione soggettiva significa riconoscere se stessi come un Dio. Un Dio, dunque, artefice della propria esistenza. artefice della propria esistenza è entro i limiti in cui il nostro divenuto ci impone ma all'interno di quei limiti noi scegliamo ci dilatiamo facciamo le nostre battaglie noi siamo noi stessi. Solo con questo riconoscimento di sé stessi nel mondo che ci circonda inizia il crogiolo dello stragone. Solo con questo riconoscimento di sé stessi c'è il riconoscimento di un mondo in cui viviamo formato da Dei ed è fondamentale questo perché lo stregone è colui che opera nel mondo. Lo stregone non è altro che Zeus lo stregone è l'iniziato lo stregone è quello che deve essere responsabile delle cose che fa perché lui la responsabilità delle cose la mantiene non solo adesso ma anche nelle future generazioni. La magia delle determinazioni il riconoscimento delle proprie determinazioni della propria capacità di agire nel mondo porta allo sviluppo dell'individuo nell'individuo della sua lucidità. L'individuo non è più smarrito nel mondo sa di essere un potere un insieme di strumenti con i quali può operare nella vita. La consapevolezza dell'individuo di avere degli strumenti con i quali agire da un lato lo porta ad elaborare delle strategie attraverso le quali agire in base agli strumenti di cui è in possesso e dall'altra parte non si crea delle illusioni di ogni potenza in quanto la sua esistenza è legata agli strumenti di cui dispone. La magia consiste nella capacità dell'individuo di trasformare la sua visione del mondo proprio attraverso l'uso degli strumenti d'azione con i quali è diventato consapevole. Mentre il concetto di magia del monoteismo si basa sulla presunta capacità di agire sul reale della ragione camminare sulle acque fermati vento tipo piego le forchette la magia del politeismo è la capacità dell'essere umano di trasformare se stesso al fine di agire al meglio sul reale la magia del monoteismo porta alla superstizione la magia del politeismo porta alla lucidità cioè alla consapevolezza dell'individuo di poter intervenire sul mondo partendo da se stesso le sue determinazioni bene con questo io ho finito il testo sulle determinazioni però c'è un piccolo appunto che mi sono ripromesso di fare in questa trasmissione ed è un appunto dell'idea pericolosa di darvi il libro di cui vi ho parlato oggi adesso metto gli occhiali vediamo un attimo perché questo perché è importante che noi riusciamo a comprendere che sviluppare le nostre determinazioni liberarle dalle costrizioni manifestare il nostro eros universale e ci porta a riconoscere un mondo in cui i soggetti agiscono in cui i soggetti hanno delle strategie e noi siamo anche delle prede e proprio perché c'è questa relazione dialettica fra noi che agiamo e i soggetti del mondo che agiscono c'è quello che è il sistema evolutivo cioè c'è l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive per tutto ciò che noi incontriamo e andiamo a sviluppare noi stessi ebbene il virus dice vediamo un attimo mi metto un po' comodo il virus ha bisogno di un involucro capace di avvolgere e proteggere la sua informazione ereditaria necessita poi di un dispositivo mediante il quale mediante il quale inserire la propria informazione nelle cellule ospite e inoltre di un meccanismo di riproduzione specifica di questa informazione immagazzinata nella molecola di RNA in presenza di un'enorme eccedenza di RNA dell'ospite infine il virus deve preoccuparsi della proliferazione della propria informazione mentre nella maggior parte dei casi la cellula ospite viene distrutta il virus fa carico alla cellula ospite persino della propria riproduzione esso contribuisce all'enzima di riproduzione esclusivamente come un fattore proteico che è adattato in modo specifico all'RNA virale questo enzima si attiva solo allorché viene esibita la parola d'ordine programmata dal RNA virale dopodiché l'enzima riproduce con grande efficienza l'RNA virale pur senza intaccare minimamente gli RNA ospiti presenti in sovrabbondanza la cellula viene molto presto invasa dall'RNA virale esso viene avvolto nell'ormai copiosa proteina dell'involucro e alla fine il virus prolifera mentre la cellula ospite si disfa tutto ciò rappresenta un programma che si svolge in modo automatico dicono loro e che è stato studiato nei minimi particolari dunque come vedete il nostro amico virus ha una strategia di adattamento soggettivo alle proprie variabili oggettive con degli intenti precisi cioè manifesta eros universale preciso ed è quello di riprodursi anche a costo di distruggere una cellula pensate un po' noi non siamo in grado di fare una cosa del genere cioè noi praticamente neghiamo sia le nostre determinazioni cioè ciò che il virus invece riconosce come potere a se stesso e non riconosciamo nemmeno i nostri intenti che non necessariamente sono quelli di distruggere qualcosa però non riusciamo nemmeno a stabilire i nostri intenti nella nostra esistenza risultato di tutto questo il virus si trasforma in un dio un essere umano o no andiamo avanti che piaccia o meno fenomeni come questo mostrano il noccio della potenza dell'idea darwiniana un minuscolo brandello di meccanismi molecolari impersonali riflessivi automatici e privi di una mente è il fondamento ultimo di tutta l'azione e quindi di tutto il significato e quindi di tutta la coscienza dell'universo fino al primo momento il prezzo di fare qualche cosa è il rischio di farla nel modo sbagliato di commettere un errore e questo appartiene un po' a tutti gli stregoni a tutti gli iniziati che agiscono nella loro esistenza fare qualche cosa significa poter fare qualche cosa di sbagliato per cui è necessario farlo al meglio il nostro slogan potrebbe essere chi non fa non falla il primo errore che fu mai fatto fu un errore tipografico un errore di trascrizione che si trasformò poi sta parlando naturalmente della catena genetica che si trasformò poi nell'opportunità di creare un nuovo ambiente o paesaggio adattativo con un nuovo criterio di giusto e sbagliato di migliore o di peggiore un errore di trascrizione qui conta come errore soltanto perché vi è un costo nello sbaglio la conclusione della linea riproduttiva nella peggiore dell'ipotesi oppure una diminuzione della capacità di riprodursi sono tutte questioni oggettive differenze che esistono che le si consideri o meno che interessino o meno tuttavia portano con sé una nuova prospettiva prima di quel momento non esisteva alcuna possibilità di errore comunque andassero le cose comunque andassero le cose non erano né giuste né sbagliate prima di quel momento non esisteva alcun metodo predittivo o solido per esercitare il diritto di scelta di adottare la prospettiva da cui è possibile discernere gli errori e ogni errore compiuto da qualcuno o da qualcosa dopo quel momento dipende dal processo originario dell'errore di fatto vi è una forte pressione selettiva verso la massima fedeltà possibile del processo di trascrizione genetica che minimizzi le probabilità di errori per fortuna non può raggiungere la perfezione totale poiché se lo facesse l'evoluzione subirebbe un'improvvisa battuta di arresto questo è il peccato originale sotto spoglie scientifiche rispettabili al pari della versione biblica pretende di spiegare qualche cosa l'emergenza di un nuovo livello di fenomeni con caratteristiche particolari referenti in un caso peccatori dall'altro a differenza della versione biblica fornisce una spiegazione che ha senso non si proclama fatto misterioso che fa assunto per fede inoltre ha conseguenze che si possono verificare si noti che uno dei primi frutti della prospettiva da cui l'errore è distinguibile è un chiarimento del concetto di specie quando si considerano tutti i gesti genomici reali che si creano nel corso del processo di copiatura ricopiatura e ricopiatura con sporadiche mutazioni niente conta intrissecamente come versione canonica di qualche cosa voglio a dire benché si possono identificare le mutazioni con un semplice confronto tra la sequenza prima e la sequenza dopo non esiste un metodo effettivo per stabilire quale degli errori tipografici non corretti si potrebbe considerare in maniera più proficua come un miglioramento redazionale tutto questo cosa significa significa che tutta l'evoluzione della specie è avvenuto per combattimento è avvenuto per scontro è avvenuto perché il soggetto che riproduceva la propria struttura del DNA cercava sì di essere fedele a se stesso ma nell'essere fedele a se stesso innestava alcune mutazioni nella catena dell'RNA queste mutazioni all'interno della catena dell'RNA diventavano degli errori rispetto alla ricopiatura dell'RNA precedente ma questi errori davano via al processo evolutivo della specie cioè alle trasformazioni della specie ai nuovi adattamenti soggettivi per cui a un nuovo modello a cui restare fedeli sui quali avvenivano degli errori e così via all'infinito cioè in pratica anche questa teoria ti dice praticamente questo l'importante è che tu faccia le cose che tu le cose le faccia al meglio e se si verificano degli errori nella ricopiatura in questo caso dell'RNA ma anche nell'azione sociale anche nell'azione all'interno della natura anche nell'azione quotidiana esistono degli errori che vengono fatti questi errori danno il via a una sequenza di eventi cioè quando uno stragone agisce quando l'iniziato agisce non è che non sbaglia lui ha in mente un modello all'interno del quale agire ma i suoi errori il suo agire dà il via a una sequenza di trasformazioni che è completamente diversa dalla sequenza che ha iniziato prima ogni iniziato in realtà ha un potere di mutazione della realtà nella quale vive pertanto se l'iniziato diventa consapevole che le sue azioni danno il via a delle sequenze di trasformazioni sia all'interno della società all'interno della natura all'interno della linea evolutiva DNA RNA deve anche attrezzarsi al meglio per riprodurre il più fedelmente possibile quello che è la struttura la struttura di riferimento quello che è il raggiungimento dei suoi obiettivi e far sì che gli errori che egli mette in atto diano il via a delle catene evolutive capaci di dare il via a nuove sequenze di mutamenti cioè dovrebbe essere in grado all'iniziato di promuovere anche i propri errori evolutivi i propri errori di trasformazione cioè l'iniziato è colui che è capace di dare il via a nuove trasformazioni sociali a nuove trasformazioni epocali a nuove trasformazioni all'interno della natura ed è quello che porta avanti quella che è l'evoluzione fra gli esseri della natura vi ho letto questo pezzo dall'idea pericolosa di Darwin di Daniel Dennett bene e passiamo adesso visto che abbiamo ancora il tempo passiamo al secondo dibattito che va che va in continuazione a questo perché il problema che ci poniamo ora non è più soltanto quello di riconoscere noi stessi all'interno di un mondo ma anche quello di riconoscere la qualità del mondo perché se noi non riconosciamo la qualità del mondo non siamo nemmeno in grado di agirvi al loro interno al suo interno per cui qual è il mondo in cui noi viviamo è il mondo della forma è il mondo fatto in quella forma in quella misura in quella quantità è ciò che i nostri occhi descrivono o il mondo può essere descritto in maniera diversa e qui comincia l'inghippo veramente grosso di andare a definire quello che è il mondo dello stregone nel dibattito precedente sulle determinazioni abbiamo affrontato un aspetto abbiamo affrontato l'uomo l'individuo il soggetto la donna che decidono di intraprendere un sentiero virtuoso di costruzione di loro stessi nella vita prendendosi in propria mano la responsabilità della propria esistenza e abbiamo visto quali sono gli elementi che caratterizzano questo per cui noi in questo momento abbiamo un individuo che prima stava in ginocchio adesso si è alzato dalla posizione in ginocchio sta urlando la propria presenza del mondo questo individuo dice al mondo io esisto io ho il diritto di esercitare me stesso sta tentando di mettere in atto delle azioni sta tentando di mettere in atto delle azioni virtuose affinché le proprie mani il proprio cervello il proprio cuore siano funzionali alla sua nuova posizione che davanti al mondo ha detto io esisto però a questo punto dobbiamo anche capire il mondo nel quale noi agiamo e questo è il senso del secondo dibattito il secondo dibattito va a definire com'è il mondo noi siamo abituati a vedere il mondo come forma come quantità a descrivere il mondo a immaginare il mondo a vedere il mondo come immagini e siamo talmente pieni di immagini che sembra che quasi che le immagini del mondo siano l'unica cosa importante che noi siamo in grado di afferrare dal mondo se il mondo esiste per noi perché esistono le immagini del mondo ebbene ma quando non avevamo gli occhi ci ricordiamo com'era la nostra struttura sinapsica il nostro cervello la nostra capacità di percepire il mondo che ci stava attorno e di mettere in atto le nostre azioni quando noi non avevamo cervello com'era il mondo noi conoscevamo il mondo mediante il tatto conoscevamo il mondo mediante i sensi ma la nostra descrizione del mondo com'era e qui che dobbiamo interrogarci sulla qualità del mondo nel quale viviamo perché per milioni e milioni e milioni di anni fin da quando siamo usciti dal brodo primordiale l'essere umano come ogni essere della natura ha vissuto per azione noi abbiamo sentito prima parlando del virus che sono azioni riflesse cioè come se A arriva B B arriva C fosse una cosa meccanica in realtà il virus mette in atto dei veri e propri atti di volontà mette in atto delle vere e proprie strategie anche di mascheramento si è visto per esempio che il virus dell'AIDS strappa un pezzo di cellula si nasconde dietro un pezzo di cellula si maschera la cellula per aggredire un'altra cellula perché non lo riconosca come virus dell'AIDS dell'AIDS cioè abbiamo visto che esistono delle vere e proprie strategie di attacco strategie d'agguato messe in atto dai virus per cui esiste intelligenza da parte dei virus esiste volontà da parte dei virus esiste intento determinazione da parte dei virus per cui abbiamo visto che il virus è un guerriero è un guerriero che ha un suo scopo ha un suo fine e ha una sua strategia di sviluppo allora se l'essere umano ha la ragione e la ragione ce l'ha nell'ultimo periodo negli ultimi credo 20-30 mila anni al di là di un'altra forma di ragione che è all'interno della natura ma non ne parliamo per il momento prima che avesse la ragione come ha fatto per milioni e milioni di anni a leggere il mondo e ad agire nel mondo è questa è la domanda a cui deve rispondere il secondo dibattito perché il mondo non è forma il mondo si descrive mediante l'azione è l'azione che determina la qualità dell'oggetto che io ho di fronte l'azione qualifica l'oggetto l'azione è l'oggetto perché se l'oggetto non mette in essere azioni quell'oggetto non esiste se io vivo nel mondo devo mettere in atto delle strategie per vivere in questo mondo per espandermi nel mondo non posso vivere in questo mondo senza nessuna strategia di espansione io non esisto se non agisco è questo il nocciolo principale della questione e allora vediamo il mondo della volontà la cosa più difficile dell'intero crogiolo o stragone è quella che mi appresto a fare devo riuscire a darvi un'idea attraverso le parole di un qualche cosa che le parole non sono in grado di descrivere nella ragione di immaginare in questo dibattito un'altra cosa devo dire vado ad introdurlo il mondo della volontà il mondo della volontà viene concluso all'interno del dibattito sull'intento sull'intento viene a concludere il discorso sulla volontà devo usare devo usare le parole per far emergere in voi delle sensazioni sono quelle sensazioni di un mondo non descritto attraverso la forma ma percepito e intuito come azioni manifestate attraverso la necessità di chi le manifesta e trasformate attraverso il mutamento il tempo Cronos e allora perché rischio di sputanarmi parlandone innanzitutto perché non posso fare a meno e poi perché la falce che Gaia costruì per i suoi figli è che Cronos Brandy si esprime in tutti i mondi in tutti gli esseri adattandosi a quanto incontra ma è oggetto in sé sulla consapevolezza della falce di Gaia quell'oggetto in sé l'essere umano che si manifesta nell'oggettività in cui vive costruisce e modifica se stesso è la prima arma che l'essere umano riconosce ed imbraccia per affrontare la sua quotidianità la falce di Gaia permette all'essere umano di riconoscere i mondi quando questi li si presentano attraverso le loro azioni e qui dobbiamo andare a spiegare cos'è la falce di Gaia e in sostanza che cos'è il mito perché a questo punto interviene anche il concetto di mito il mito quando noi parliamo degli dei quando noi parliamo degli antichi dei mitologici noi siamo abituati a quello che ci è stato un po' tramandato negli ultimi secoli parlare degli dei come se fossero delle figure delle persone delle persone che agiscono delle persone che fanno delle cose voi pensate un po' a quanto è crudele questo Cronos questo Cronos si ingoia a tutti i figli che partorisce con Rea tutti se li mangia meno che uno meno che Zeus effettivamente è un soggetto un individuo estremamente crudele si mangia tutti i suoi figli bene proviamo invece a vederlo dal punto di vista della volontà e cominciamo a considerare Cronos il tempo cominciamo a considerare Zeus l'atmosfera cominciamo a considerare i figli di Zeus per ciò che sono Demetra la crescita Estia la verità Giunone era l'essere natura Poseidone il mare il mare che dà la vita Ade il tartaro che dà la vita ebbene tutti questi cinque figli di Cronos non avrebbero mai potuto agire finché non fosse nato il sesto figlio e cioè l'atmosfera Zeus cioè la crescita degli esseri della natura a cui noi apparteniamo non avrebbe mai potuto esprimersi se non ci fossero stati gli esseri che la manifestano la verità Estia non avrebbe mai potuto esprimersi se non ci fossero stati gli esseri che la manifestano la crescita e così il mare è fecondo Poseidone e così l'Ade non avrebbe mai potuto esprimersi se prima non ci fossero stati gli esseri che nascono e che crescono in loro e allora questo Cronos cosa fa? Si ingoia tutti i suoi figli i suoi figli sono fermi nel tempo allora non abbiamo più l'atto crudele del padre che si mangia i figli come tanto piaceva descriverlo i cristiani ma abbiamo una condizione cosmologica che si sviluppa in potenza e che aspetta l'iniziato aspetta lo stragone affinché questa situazione in potenza si manifesti e lo stragone è Zeus Zeus uccide il padre Zeus mette il padre nell'impossibilità di nuocere e libera i suoi fratelli ed ecco che l'atmosfera copre la terra il mare diventa fecondo l'ade diventa fecondo demetra la crescita si esprime estia si esprime la verità la situazione attuale si esprime e si esprime era giunone perché nasce l'essere natura per cui cosa sono questi figli questi figli di Crono e Crono stesso del resto non sono altro che azioni Zeus non si manifesta perché è un uomo vecchio con la barba anche se a me piace vederlo così ma si manifesta perché fa delle azioni le azioni è costruire quell'oggettività nella quale i suoi figli possono germinare era fa delle azioni è l'essere natura che germina Poseidone fa delle azioni e il mare è fecondo Ade fa delle azioni ed è il germinare del sottoterra del feto dell'uovo estia non fa delle azioni estia è immobile estia protegge le spalle agli esseri ma ci devono essere degli esseri per proteggere le spalle altrimenti non si può esprimere la verità estia tutto questo sono un agire e sono rappresentati nei mondi della percezione attraverso il loro agire ma non sono nei mondi della percezione sono presentati anche nel mondo del reale quotidiano se io anziché fissare la mia attenzione sul mondo della forma sul mondo della numerazione sul mondo della quantità fisso la mia attenzione sulle azioni del mondo che mi sta attorno cioè leggo il mondo descrivo il mondo non per la forma dei suoi oggetti ma leggo il mondo per le azioni che il mondo fa nei miei confronti e allora si comprende il senso del mito antico gli dei irrompono irrompono come forma nella mia ragione e io racconto storie storie di forme storie di uomini storie di esseri di esseri fisici perché la mia ragione non può farne diversamente devo per forza raccontare quelle storie devo per forza raccontare di quegli dei ma quegli dei non sono forme ma sono azioni azioni che si esprimono all'interno di tutti i soggetti che la forma riconosce che la ragione riconosce ma che all'interno dei mondi di apprezzazione dei mondi di relazione l'unica cosa sostanziale l'unica cosa che è reale sono le loro azioni altrimenti loro non esisterebbero questo è importante che noi riusciamo a capire il mondo della stragoneria non è il mondo della forma non è il fermati vento non è ti piego il cucchiaino non è ti sollevo il masso con la forza della mente non è questa la stragoneria la stragoneria è l'arte di riconoscere che il mondo è fatto in maniera diversa da quello che è di cominciare a penetrarlo cambiando la nostra ottica la nostra angolazione con la quale guardare il mondo penetrare il mondo ed agire affinché il mondo abbia tutta una serie di mutamenti l'arte della stragoneria è l'arte del soggetto che muta e trasforma se stesso ed è l'arte che il soggetto una volta mutato trasformato se stesso riversa nell'oggettività riversa nella sua esistenza quando io per esempio parlo del Dio dei cristiani dico è il macellaio di Sodoma e Gomorra non è che lo voglio insultare è che definisco il Dio dei cristiani per le sue azioni che compie perché l'unica cosa che mi interessa sono le azioni sono le azioni che mi qualificano la divinità so perfettamente che i cristiani hanno sentimenti proiettano sul Dio le loro patologie più o meno psichiatriche questo lo so perfettamente ma questo è nella loro testa la loro testa non fa testo ciò che fa testo sono i libri sacri che loro manifestano ciò che fa testo è la storia con cui questi libri sacri sono stati manifestati questa è l'oggettività tutto il resto fa parte della patologia fa parte del trucco siccome tu sei debole e hai avuto il tuo compagno morto alle Maldive perché è arrivata l'onda ecco ti colpevolizzo i suoi peccati i peccati che ha fatto Dio lo ha distrutto questa è una cagata ciò che è il Dio cristiano non è il prete che ti frega o il cristiano che fa i trucchetti o che si inventa gli esempi del suo Dio che interviene della sua providenza queste sono cagate ciò che è reale sono i testi sacri e la storia la storia della religione come si è sviluppata come è stata applicata questa è la realtà e solo su questo possiamo parlare io non posso andare dalla vecchietta a dirgli alla vecchietta che il macellare di Sodoma e Gomorra è un testa di caso e che la sua illusione del Dio buono non esiste non ha senso che io faccia questo capite perché chiaramente lei ha interiorizzato a livello talmente profondo questa condizione che esiste un Dio buono che nessuno la toglie più ma io quando vado a definire il Dio dei cristiani devo cogliere invece quella che è la mia visione cioè il mio modo della stragoneria con cui trattare le cose e le cose in stragoneria esistono soltanto nella misura in cui agiscono e sono le loro azioni che qualificano gli oggetti questo ricordatevelo sempre vale anche per il quotidiano noi abbiamo anche nella vita quotidiana tutta una serie di cose similari per esempio quando voi dite l'assassino perché lo chiamate assassino perché ha fatto delle azioni che voi qualificate come assassino oppure dite lo scalpellino perché lo chiamate scalpellino perché fa delle azioni per cui scalpella lo chiamate non so il mugnaio perché lo chiamate il mugnaio perché fa delle azioni per cui lo definite mugnaio cioè esiste anche nella ragione l'entrata dell'azione cioè non è che la ragione nega completamente l'azione la ragione cerca di impossessarsi dell'azione farla dipendere dagli oggetti e impedire ai soggetti di valutare gli oggetti attraverso le azioni per cui lei comunque impone la forma all'individuo e ne fissa l'attenzione che sono delle cose abbastanza diverse cosa dice la psicologia della volontà per cui a questo punto tutto quello che noi andiamo a chiamare come azione per per separarlo da quella che è la ragione lo chiamiamo volontà diciamo che la stragoneria agisce sui mondi di volontà la garzantina di psicologia ci dice la volontà principio dell'azione consapevole in vista di un fine da raggiungere la volontà è stata trattata come una delle facoltà spirituali nell'ambito della filosofia a partire dai greci che la concepirano come la risultante di appetito e ragione nel senso che la ragione approva o disapprova l'oggetto appetibile delibera circa i mezzi necessari per raggiungerlo per poi accedere alla volizione che sia attuata che si attua nell'azione la psicologia rinunciando alla ricerca dei principi e abbandonando la dottrina delle facoltà dell'anima cessò di prendere in considerazione la nozione di volontà perché troppo astratta e non suscettibile di controlli sperimentali preferendo o una visione deterministica della psiche o la sostituzione del termine volontà con la coppia di termini motivazione e inibizione ciò non impedì che la parola nonostante non fosse più tematizzata continuasse ad essere impiegata nell'uso discorsivo sia nell'ambito della psicologia scientifica sia in quello della psicologia del profondo psicologia scientifica a livello fisiologico si distinguono i movimenti volontari dai movimenti riflessi con riferimento ai muscoli controllati dai centri superiori del cervello rispetto ai muscoli controllati da archi riflessi per analogia la psicologia tradizionale distingueva l'atto volontario che è cosciente ponderato adattato ad un fine in riferimento al quale è in grado di organizzare delle azioni o di differirle nel tempo dall'atto riflesso o automatismo che non ha queste caratteristiche a partire da queste premesse l'atto volontario è la sintesi di quattro elementi a la rappresentazione del lato di compiere b la deliberazione intorno ai mezzi da utilizzare in vista dello scopo che si vuole raggiungere c la decisione per cui quel lato è scelto fra gli altri d l'esecuzione dell'azione tutto ciò comporta l'intervento dell'intelligenza dell'apprendimento e della consapevolezza oltre alle nozioni di decisione autonoma libertà e responsabilità di o in ordine alla deliberazione e all'esecuzione l'implicanza di tutti questi fattori evidenzia che il concetto di volontà è definibile solo mobilitando l'intera personalità dell'individuo sia a livello pulsionale in ordine al prevalere di un desiderio o di una tendenza affettiva dominante rispetto alle altre sia a livello intellettivo in ordine alla rappresentazione che si impone come fra le molte possibili sia a livello comportamentale in ordine alle scelte dell'azione più idonea per il conseguimento dello scopo una volta accolto il concetto di volontà si può parlare di patologia della volontà per tutte quelle situazioni caratterizzate tutte quelle azioni caratterizzate da indecisione per pressità dubbio conflitto che portano ad un'incapacità di risolversi nell'azione volontaria a ciò si aggiunge l'impulsività che porta all'azione non concedendo spazio alla rappresentazione e alla deliberazione la carenza ipobulia o la mancanza abulia di volontà che si riscontra nelle depressioni negli stati confusionali nelle demenze nei comportamenti negativistici di tipo catatonico dove la volontà sembra del tutto annullata e in realtà quello che noi abbiamo la sottomissione cristiana tende ad annullare quella che è la capacità dei soggetti di determinare la propria esistenza e questo lo riprendiamo la prossima volta intanto mi insegno dove sono arrivato eccolo qua e il prossimo pomeriggio riprenderemo il discorso sulla volontà bene allora chiudo qui intanto i discorsi sul i discorsi sul crogiolo dello stragone e diamo un attimo il via alle telefonate nel frattempo qualche notizia stampa devo soltanto chiudere un attimino i programmi visto che diventa tutto quanto più complicato attraverso l'uso del computer ok una volta chiuso questo prendiamo qualche notizia stampa e poi diamo il via alle telefonate e in effetti con il computer si lavora anche abbastanza abbastanza bene vedo però ha le sue complicazioni specialmente di ordine logistico bene vi ricordo il numero di telefono per intervenire in diretta è 049 700 700 e 049 700 838 allora andiamo avanti vediamo un attimo pronta proprio un buon arro si cambia una cosa quello che ho detto al manco bene e questo è il livello con cui i cattolici riescono a capire le cose della vita e le cose che ho esposto il loro livello è questo ma ormai abbiamo già visto che a proposto vi ricordo questa trasmissione va in diretta in internet pronto ciao l'atto di volontà di assaggioli lo conosco l'atto di volontà ha sentito di un saggio di roberto assaggioli no lo conosco parla appunto della volontà del ente all'io con le persone psicologiche l'esperienza del 6 è più del profondo comunque che è voto quasi tutti di assaggioli comunque ho ancora da iniziare no ma quel che mi voglio mi ho un discorso da fare no cioè quello che mi voglio andare a parlare è riuscire a far capire che esistono dei mondi diversi da questo e che comunque anche a sto mondo qua se puoi leggerlo in maniera diversa questo cosa è che voglio andare a parlare mi grazie no 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 non l'ho visto anche perché no ma è vecchio insomma come saggio hanno fatto una serie di saggi appunto l'atto di volontà parla appunto di è fatto vediamo guardate subito principi e metodi della psicosintesi terapeutica e via dicendo beh credo che quelle psicosintesi si siano presi un po' del mio materiale sì non so che fine abbia fatto ma insomma sì ancora alcuni anni fa non sono mica è abbastanza beice beice ma come beh sono sempre qui lavori perché la psicologia ha sempre la carenza di dire sì questa è la patologia no però mica cosa faccio e là la psicologia cade no eh sì comunque è tutto qua venga Ivano un ulteriore saluto grazie Ivano ciao 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 eh sì vi ricordo che comunque sì in effetti questa trasmissione è stata mandata è stata mandata in internet e la persona che ha fatto a server praticamente fa da rimando alla trasmissione mi ha detto che la prima trasmissione è stata seguita da un buon numero di persone più di quante si pensasse per cui ha già avuto un buon successo diciamo così la prima trasmissione vedremo un attimo quanti sono le persone in ascolto in questa bene io ormai la trasmissione sta avvolgendo al termine sono quasi arrivata in fondo comunque vi ricordo che quando la stupidità arriva a livelli molto alti arrivano cose come negli Stati Uniti dove viene diffusa anche nei testi incinta se ti fai toccare uno studio commissionato da un deputato americano ha rivelato che i 13 principi e i principali programmi scolastici sull'astinenza sessuale tanto predicata dal presidente Bush come prevenzione dell'AIDS sono un concentrato di perle di disinformazione si dice ad esempio che l'aborto può portare al suicidio e alla sterilità che metà dei gay americani hanno l'AIDS e che farsi toccare i genitali può portare alla gravidanza l'amico che ha telefonato prima che non ha capito un cazzo di quello che io ho detto è uno che va in giro di resti cazzate bene io vi saluto qui per stasera vi ricordo io sono Claudio Simeone il mio indirizzo è piazzale parmesano automarghera e vi do appuntamento per giovedì prossimo prima trasmissione dalle ore 15 alle ore 16 e la seconda trasmissione dalle ore 19 alle 20 ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo vediamo un attimo a giovedì prossimo